Ciao iscritti, pace e bene. Volevo dire alcune mie considerazioni sull'iniziativa Io Apro. Innanzitutto considero una cosa veramente straordinaria, inaspettata, che mi dà anche un po' di fiducia nel genere umano. Il fatto che questa iniziativa sia nata dal basso, non ci sono capipopolo, non ci sono segretari di partito, non ci sono segretari di sindacato, non ci sono portavoce di movimento, al massimo associazioni di categoria che finalmente fanno il loro mestiere, finalmente rappresentano la categoria dei loro commercianti iscritti e danno finalmente quel supporto legale e anche psicologico affinché questa gente lavori come stabilito dall'articolo 1 della Costituzione. Guardate, l'unico vaccino di cui ha bisogno la popolazione italiana è quello per inoculare dentro il nostro DNA la democrazia. Noi siamo un popolo che ha portato nel proprio DNA la dittatura per troppo tempo. Ora basta, sono passati 75 anni dalla fondazione di questa Repubblica. Abbiamo il dovere di essere quella persona umana con dignità per cui i nostri padri costituenti hanno scritto la Costituzione. Certamente i padri costituenti sapevano nel 45 che la popolazione italiana non era ancora all'altezza degli elefati contenuti della nostra Costituzione. Ma ora basta. Ora siamo in grado di manifestare il merito che abbiamo di avere quella Costituzione. perciò è straordinario che dal basso sia nata un'iniziativa tra i commercianti. E ancora più straordinario è la partecipazione della popolazione che è andata a mangiare. Se mi avessero detto un anno fa che andare a mangiare al ristorante la sera di venerdì sera o di sabato sera era un atto politico, rivoluzionario, mi sarei messa a ridere. Ma non è solo un atto politico o un atto di solidarietà andare a mangiare nei ristoranti aperti dall'iniziativa IoApro. È anche un'azione sindacale, guardate. Perché questi ristoratori hanno dipendenti, lavoratori, lavoratori che hanno famiglie. Perciò è di grande importanza l'adesione di tutti noi. Come si può? Dove si può? Io per esempio a Genova non ho ancora trovato ristoratori che aderiscono a questa iniziativa. E provando a parlarne con quelli che sono nel mio quartiere, si è manifestato quello che mi aspettavo. Paura. Manimans se dice asena. O manimans è una forma dialettale che sta a significare non si sa mai. Non si sa mai cosa può succedere. Però io credo che se questa iniziativa continuerà con determinazione, nelle altre regioni aumenteranno le adesioni. E quindi anche i genovesi, anche i liguri, magari saranno gli ultimi, ma poi siccome alle palanche usenese ci tiene, vedrai che si faranno coraggio. Perché adesso si aspettano l'uno con l'altro. Comincia tu che io c'ho paura. No, non lo faccio io che poi sono da solo. Codardia. Semplice codardia. Comprensibile, guardate. Però non condivisibile. Quindi, dobbiamo andare a mangiare in questi locali che rimangono aperti, nonostante le sanzioni, nonostante le minacce di chiusura, o nonostante davvero gli sbirri ci vadano e tirino giù la saracinesca. Dobbiamo andarci finché abbiamo i soldi per andare a mangiare fuori, al ristorante o in pizzeria. Perché la bellezza di quasi due milioni di nostri connazionali hanno perso il lavoro. Sono nelle code. E non per andare al ristorante, ma per andare a mangiare un pasto gratis dai volontari della Caritas, di Sant'Egidio o di quant'altro. Noi che abbiamo ancora la possibilità, magari facendo anche dei sacrifici, di uscire anche solo una volta al mese a mangiare fuori la sera, dobbiamo farlo con lo spirito di chi si muove, anche per chi non può. Viva l'Italia. Viva l'Italia libera. Viva l'Italia democratica. Viva il popolo in lotta. Viva l'Italia. Grazie.